Golden Kids Academy Golden Kids Academy Finger counting 0-10 in italiano WhatsApp, plus 968-943-14-116 Benvenuti nel canale di conteggio delle dita della Golden Kids Academy. Nella prima parte impareremo come usare le nostre dita per contare da 0 a 10 in italiano. Benvenuti nel canale di conteggio delle dita della Golden Kids Academy. Nella prima parte 1. Siamo a imparare come usare le dita per contare da 0 a 10 in italiano. Le dita della mano destra sono per le unità, quindi da 0 a 9. Le dita della mano sinistra sono per le decine, quindi 0 fino a 90. Le dita della mano destra sono per le unità, quindi da 0 a 9. Ora, queste sono le mie due mani. Ma devi girare il palmo da te stesso. Vedresti il dorso delle tue mani. Now, these are my two hands, but you have to turn over the palm from yourself. You'd be seeing the back of your hands. Zero Tenendo il pugno così il pugno destro è 0 e anche il pugno sinistro è 0. Holding your fist thus the right fist is 0 and the left fist is also 0. 1 Una Uno Alzare il dito puntato sulla mano destra significa 1. Shooting up the pointing finger on your right hand stands for 1. Two Due Alzare il dito puntato e il dito medio della mano destra sta per 2. Shooting up the pointing finger and the middle finger on the right hand stands for 2. Three Tre Sparando il dito puntato, il dito medio e sommando l'anulare sta per 3. Shooting up the pointing finger, the middle finger and adding up the ring finger stands for 3. Four Quattro Alzare le quattro dita della mano destra con l'eccezione del pollice è 4. Shooting up the four fingers on the right hand with the exception of the thumb is 4. Five Cinque Nota bene, tenendo premute tutte e quattro le dita della mano destra e alzando il pollice è il 5. Note well, holding down all the four fingers on the right hand and shooting up the thumb is 5. Six Alzare il dito puntato oltre al pollice fa 5 più 1 che fa 6. Shooting up the pointing finger in addition to the thumb is 5 plus 1 which equals 6. Seven Sette Sommare il dito medio della mano destra al dito puntato e al pollice destro significa 5 più 2 che è uguale a 7. Adding up the middle finger on the right hand to the pointing finger and the right thumb means 5 plus 2 which equals 7. Eight Oto Six Shooting up the ring finger in addition to the middle, the pointing finger and the thumb on the right hand means 5 plus 3 which sums up to 8. Nine Nove Quando hai il palmo completamente aperto o tutte le dita alzate, significa 5 più 4 che fa 9. When you have your palm fully opened or all your fingers shut up, it means 5 plus 4 which equals 9. Golden Kids Dieci Per contare dieci, stringi il pugno destro e alza il dito puntato della mano sinistra che sta per dieci. To count 10, clench your right fist and shoot up the pointing finger on your left hand which stands for 10. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Sottoscrivi. Come quando hai il palmo. Come quando hai il palmo. Condividere. Share 19 19 20 20 21 22 24